Ciao a tutti, Fabio Gallo sarà il tecnico del Potenza, avversario delle fere dopo la partita di lunedì contro la Casertana e quindi sarà un ex che incontrerà la sua ex squadra, cioè la Bernana, subito nelle primissime partite da nuovo allenatore. Quindi la notizia sportiva, diciamo così, di Lega Pro è che Fabio Gallo ha sostituito l'esonerato Exiolino Capuano.